La neoeletta Assemblea regionale siciliana si insedierà ai primi di dicembre. La prossima settimana la Corte d'Appello dovrà confermare l'elezione e proclamare il Presidente della Regione e solo dal giorno seguente Nello Musumeci potrà insediarsi a Palazzo d'Orlean, ricevere le consegne e prendere possesso delle affunzioni. Come annunciato la sera della vittoria elettorale, Musumeci si è ritirato qualche giorno in campagna a Militello Val di Catania. Al rientro inizierà le consultazioni nella coalizione e la procedura per prendere possesso delle funzioni. In prima istanza sarà lui ad avere tutte le deleghe che poi distribuirà agli assessori. Come di consueto è iniziato il totonomi, anche se sul fronte prettamente politico, le indicazioni che riguardano la composizione della Giunta, anche se parziali, ci sono. Innanzitutto c'è Gaetano Armao, designato Vice Presidente ed Assessore all'Economia in base ad un accordo pre-elettorale. Le sue indicazioni fanno parte del programma di governo del candidato che ha vinto le elezioni. Il secondo nome è quello di Roberto Lagalla. Anche se l'accordo non è chiaro, il successo della lista Popolari Autonomisti, seconda forza della coalizione, dovrebbe essere tale da non lasciare troppi dubbi sulla nomina dell'ex rettore di Palermo. Ci sono poi le proposte avanzate dai partiti durante la campagna elettorale. Sempre i popolari autonomisti avevano suggerito il nome di Mariella Ippolito, farmacista e presidente provinciale di Federpharma a Caltanissetta. Da Forza Italia l'indicazione di Giuseppe Guayanex, consigliere provinciale di Trapani. Da comprendere chi sarà invece l'assessore designato da Lega e Fratelli d'Italia, mentre Musumeci potrebbe portare con sé in giunta Giussi Savarino, così come durante una manifestazione aveva invitato alla collaborazione al governo Toto Cordaro. Infine l'aspirazione di Gianfranco Micciche, che non nasconde che vorrebbe tornare a fare il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Sono tante i nodi che dovrà sciogliere Nello Musumeci. Vedremo.